Il pirotecnico SRL, il re dei fuochi d'artificio via Regina Elena 91A, angolo con via Mazzini Taranto o al mio fianco il cavalier Gaetano Insogna. Una vastissima, una grandissima esperienza, tanti 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 anni di riconoscimenti, di impegno riconosciuto peraltro dalle varie amministrazioni, dai vari soggetti istituzionali. E allora la qualità certamente dei suoi prodotti ma ci soffermiamo oggi sulla sicurezza che viene prima di tutto. La sicurezza dei fuochi d'artificio è una cosa molto importante. Il prodotto pirotecnico, stiamo parlando di esplosivi, chi li deve vendere deve essere consapevole della materia che propone alla persona non esperta. Io posso dire che ho quasi 35 anni di esperienza, ogni prodotto che noi vendiamo è un prodotto che noi conosciamo perfettamente quello che diamo perché lo utilizziamo prima noi sulle feste patronali e altri eventi che noi facciamo. Quindi sappiamo quello che possiamo proporre al cliente. Cavaliere Insogna, ma nello specifico, lei cosa intende per sicurezza e soprattutto quali devono essere i requisiti di cui disporre? La sicurezza intendo che bisogna avere dei locali come questi a norma e dei depositi dove deteniamo altro materiale in cui deve essere a norma e registrata la prefettura di Taranto e ai vici del fuoco, al comando dei vici del fuoco di appartenenza. In cui la normativa cosa prevede? Che quello che tu vendi deve essere tutto registrato e deve essere marchiato C, ma soprattutto deve essere tutto nella norma sotto i 10 decibel. E prodotti soprattutto che devi dare a persone che sono alla conoscenza di tutto quello che tu stai vendendo e non ai minorenni. Questa è una cosa molto importante che ci tengo tantissimo. Chi mi conosce sa che sono molto rigido e non cerchiamo di dare niente ai ragazzi perché dando ai ragazzi possono fare cose che più troppo anche nel loro non volere si fanno delle cose che non si dovrebbero fare. I requisiti che bisogna tenere? Poi bisogna avere delle licenze rilasciate dalla prefettura di Taranto, dalla questura di Taranto e dal comando dei vici del fuoco e dalla commissione tecnica materiale esplodenti. Tutto ciò, una volta che si ha tutto questo, automaticamente una rivendita si può dire che è una rivendita autorizzata. Alla fine di tutto quello che sto dicendo, anche se noi abbiamo i requisiti per poter fare tutto ciò, dobbiamo avere il buon cuore, ma soprattutto l'esperienza del prodotto che noi possiamo proporre alle persone, come ho detto prima. Natale, il 2022 che è alle porte. Chi si sente di salutare? A chi vuol rivolgere il suo sincero augurio? Il mio sincero augurio è sempre ai nostri clienti fedeli, ai nostri clienti che sanno che i nostri prodotti sono gli unici nella zona di Taranto che abbiamo un assortimento vasto di prodotti pirotecnici sul professionale. E soprattutto mi va di salutare le persone che ci hanno dato sempre costante attenzione nel nostro locale di venire sempre alla stessa parte dove riconoscono che è un punto vendita autorizzato. L'altro saluto di cuore è alla questura di Taranto che ci rilascia con tanta attenzione i nostri permessi e le nostre autorizzazioni alla vendita. Auguri a tutti e un buon Natale. La signora è molto discreta però è l'anima di questa attività insieme al Cavaliero. Stiamo cresciuti in questa rivendita facendola crescere come azienda e tenere sempre una serietà. Una serietà intendo dare sempre, come ho detto prima, i prodotti a chi è di competente. Cioè non vendere prodotti a chi non potrebbe usarli e chi potrebbe fare cose che non dovrebbe utilizzarsi fuori norma. Grazie.